Buongiorno a tutti Buongiorno a vedere la nuovissima skin di Jogre in arrivo su Fortet e a vedere come ottenere il nuovissimo pacchetto ride bene chi ride ultimo Quindi andremo a vedere quando costerà questo pacchetto, quando uscirà e quali oggetti comprenderà Per prima di incominciare ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche Questi siete sempre aggiornati su questi tipi di video e in realizzazione con lo skin passo la taglia Infine condividi questo video e tutti i miei amici almeno farvi vedere anche loro questo nuovissimo pacchetto in arrivo su Fortet Quindi partiamo subito appunto ci troviamo proprio sul sito ufficiale di Fortet e andremo a leggere proprio l'articolo fatto da loro riguardante questo pacchetto Quindi andremo prima a leggere questo articolo e poi andremo a fare appunto un riepilogo di tutti quanti gli oggetti Quindi appunto Fortet ci scrive con il ritorno di Batman, Catwoman e Harley Quinn in Fortet dobbiamo riaccendere il Bat segnale Per le grandi notizie in arrivo quest'autunno Ebbene sì questo pacchetto arriverà proprio in autunno Joker e l'arcinemico di Batman arriva su Fortet il 17 novembre con il bundle ride bene chi ride ultimo Quindi segnatevi la data il 17 novembre e potremo comprare questo nuovissimo pacchetto Scopri tutti gli oggetti di Joker qui sotto come il costume di Joker, il dorso decorativo Ghigno di Morte Il piccone Tiro Mancino, il piccone La Vendetta di Joker e l'emotto pesca una carta Quindi ecco tutti gli oggetti che faranno parte di questo bundle Vero genio del caos Joker sarà affiancato da avversari vecchi e nuovi Poi son Nivi, la femme fatale e Flora di Gotham è pronta per mettere radici sull'isola Mentre Mida ritorna con un nuovissimo costume re di Mida Quindi le skin che faranno parte di questo pacchetto saranno proprio Joker Poi son Nivi e Re e Mida che sarebbe una rivisitazione di Mida Il bundle ride bene chi ride ultimo è disponibile per l'acquisto digitale o fisico E include 1000 V-Bucks quindi otterremo anche 1000 V-Bucks L'edizione fisica sarà disponibile per Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One Inoltre arriverà in tempo per il lancio delle console Quindi potrete comprare anche l'edizione fisica Anche per Playstation 5 e Xbox Serie X quando saranno uscite Per i giocatori su mobile e PC abbiamo pensato a voi Presto vi mostreremo come acquistare il bundle Fortet Ride bene chi ride ultimo Quindi questo è il nuovissimo bundle Ricapitolando, questo bundle comprenderà 1000 V-Bucks Skin Joker, Skin Poison Nivi, Skin Midas Rex 3 Zenetti che saranno appunto inerenti alle skin 4 Picconi che saranno il Piccone Brutto Scherzo Poi Vendetta di Joker, Asha Ivy e King Macker E poi una scia, scegli carta Quindi il pacchetto concetto primo sull'el 17 novembre dovrebbe costare intorno ai 30 euro Quindi potrete comprare sia la versione su Fortet per 30 euro sia la versione fisica Quindi fatemi sapere se vi acquistate questo nuovissimo pacchetto E comprenderà anche la nuovissima skin di Joker su Fortet Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video E la video con lo skin non passo da taglia Infine condividi questo video Tutti i miei amici almeno farvi vedere anche allora Questo nuovissimo bundle in arrivo su Fortet Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live Grazie